ciao ragazzi ciao a tutti benvenuti a questa cinquantatresima puntata del daylight club attenzione in tenuta da stiro perfetto e come sempre c'è il nostro amico frank ciao ragazzi ciao a tutti dal frank e benvenuti nella puntata 53 che mi sono sbattuto ben prima di scrivere si chiama analisi e commenti alle vostre foto siamo alla puntata 53 stasera ci mi scaldiamo le mani e facciamo un po di arrosto quindi vediamo chi tratterà nel forno scaldiamo le mani e scaldiamo i pennini un voto di gente sta arrivando vorrei sapere se qualcuno di voi ha visto l'instagram live che abbiamo fatto tre secondi fa purtroppo non riusciamo a trasmettere su instagram siamo live in questo momento su youtube e su facebook quindi ci vedete adesso se ci vedete dal futuro tutte le puntate sono registrate le trovate come sempre su youtube sul canale di misitalia di youtube e come dicevamo stasera super puntatona perché abbiamo la puntata che facciamo periodica ormai con le vostre foto le foto dalla comunità di misitalia comunità che da fattoni di fotografia ma dopo tutto questo siamo e per chi non conoscesse la comunità vi ricordo che basta googolare nisi italia community vi viene fuori il gruppo centro di recupero e lo con un grande ospite oltre che un grande amico il metico ale sca direttamente dal centro di recupero sezione alcuni fenomeni dalla comunità di misitalia in tutti i sensi allora ale lo sapete se non votate la comunità esatto oltre a vivere in un bellissimo posto che non è la pianura padana dove vivo io e ale è il community manager di del gruppo di misitalia insomma quello che abbiamo citato prima quindi è quello che vi cazzi a tutte le volte che che non postate o che scrivete delle cattive cose no scherzo quindi ciao ale benvenuto ciao grazie ciao quindi oggi per la prima volta saranno tre i cuochi che arrostiranno le vostre foto allo spiedo e visto io sfumo spunto quando il buon vino rosso esatto faremo un bel brasato faremo un bel brasato visto che frank è già bello bollito mi pare la serata è molto lunga e ho anche il ferme pronto ad aspettarmi alla fine ma allora come funziona la serata come al solito cioè come al solito allora questa volta che è simile alle altre volte abbiamo chiesto di pubblicare una vostra foto qualche vostra foto sulla community con l'hashtag the light club no in modo da andare a pescare solo le foto di insomma chi vuole mettersi in gioco no perché qualcuno magari dice guarda me ne prendo una mazza e quindi siamo andati a prendere un po di queste foto sono state tantissime vi ringraziamo ale ha curato alle scala si ha curato personalmente la sua elezione come un vero sommelier l'idea è stata quella di come sempre questo veramente come sempre non di andare a prendere le foto solo le super top perché a dirsi bravi tutti bravissimo bella foto nel senso ci sono già pieni ci fai 500 pixel e tutti gli instagram del caso la nostra idea di andare a scegliere delle foto con un senso logico ovvero che certamente sono belle interessanti ma che magari hanno secondo noi secondo il nostro personalissimo punto di vista magari qualche commento da fare che potrebbe tornarvi utile o per aggiustare la post produzione per le prossime foto per chi magari si sta avvicinando a questo genere di fotografia insomma per per migliorare mi taccio non è vero anche se io parlerò per sempre e partiamo con le foto vi chiedo solo a dirzare la manina anche se non potete se qualcuno di voi viene citato e ci sta seguendo perché sarebbe bello interagire in chat ricordatevi che noi vediamo la chat sia su youtube che facebook quindi scriveteci ma anche se non siete voi autori della foto se avete dei commenti direi che potete farli alla grande tutti d'accordo se partiamo direi di sì quindi via con la prima foto di non lo so ale a te ale scala su chef di chi è non ho capito sta caricando io non la vedo ancora ah ok quindi in sardegna in sardegna c'è un po di ripetitore ancora non è arrivato veloce esatto quindi o la guarda anche ale poi vediamo se riusciamo a accorciare arrivata quale la vedi giusto per sapere se la mia connessione perché di solito fa schifo io l'ho vista appena detto la vedete l'ho vista l'ho vistuta l'hai vista l'avevo anche io adesso ah ok quindi puoi sapere un po in ritardo purtroppo vabbè come noi insomma non è che siamo proprio delle cime proprio centratissimi quindi le sappiamo di chi è o non lo magari c'è qualcuno che ci scrive in chat ce lo dice prima vabbò io intanto parto la facciamo alla cieca questo poi ale quando tu vedi di chi è me lo dirai questo parto io partituale allora vabbè l'ho pescato scusami alessandro alessandro grande alessandro ciao ale se ci sei batti un colpo e c'è scritto anche qualcosa su dati di scatto filtri quant'altro hai visto qualcosa sì è stata scattata con un polarizzatore landscape un gnd ma non ci specifica quale è un nd ok allora sicuramente la triplete dei filtri si si vede no perché allora proviamo andare in modalità edit per pacciugare come faccio di solito in realtà questa è una modalità è un'app nuova quindi vediamo se funziona ma mi sembra di sì allora sicuramente scatto interessante anche se io non sono un amante del verticale ma questa si presta probabilmente molto bene al verticale perché la composizione sicuramente classica con un l'orizzonte sulla linea dei terzi secondo me funziona la grande si vede che ha utilizzato il polarizzatore mi piace tantissimo perché come vedete qua utilizzando il polarizzatore landscape che poi appunto accentua al canale del blu si riescono a vedere i sassi sotto la superficie no quindi contribuisce a dare questa profondità di campo c'è una composizione con questa diagonale che sicuramente è interessante perché secondo me porta l'occhio sul sul punto luce che ovviamente è dato dal sole e un cielo gestito con un tempo di scatto che ha permesso alle nuvole insomma di secondo me di dare un buon movimento forse non un un tempo di scatto troppo lungo saremo intorno al minuto due minuti non lo so e probabilmente le nuvole non stavano correndo tantissimo a me piace molto lo scatto quello che mi ha fatto scegliere questa foto a parte il fatto che appunto è bella ben fatta sono due piccoli commenti non so se poi voi li condividete o meno allora il primo è legato alla fase di scatto e il secondo alla post produzione vediamo se tornano anche voi per quanto riguarda la fase di scatto allora non ci ha detto che che gnd è stato usato onestamente penso che non sia stato utilizzato il gnd reverse il quale in questa situazione sarebbe stato secondo me la morte sua perché ricordiamoci gnd reverse è un gnd che quindi un graduato che ha una suddivisione netta tra parte scura e parte trasparente quindi qua si fa scopo benissimo perché abbiamo la linea di luce sull'orizzonte e poi è più intenso verso la linea di la zona di transizione e pian piano sfuma verso l'alto questo è particolarmente utile in casi come questo dove abbiamo intorno alla zona dell'orizzonte una fascia a luminosità più intensa che è quella data dal sole quindi può contrastare meglio la luminosità del sole e poi sfuma come un soft verso l'alto per non fare diciamo per non perdere le transizioni e le sfumature di colore e secondo me qua ti avrebbe aiutato tantissimo perché insomma il sole qua è un po bruciacchiato insomma si vede e quindi insomma è un peccato perché sarebbe stata ancora meglio in caso come questo se non c'è il graduato il suggerimento che ti direi è prova a esporre poi a a sinistra nel senso che cerca di proprio esporre per le alte luci per non andare a bruciare questa zona e poi cerca di recuperare le ombre perché recuperare altre luci non puoi recuperare le ombre è quasi sempre fattibile ormai ultimo commento lascio la parola agli altri sulla fase di post produzione mi sembra che l'hai gestita benissimo personalmente io credo che questa immagine abbia non so come ne pensate voi i reale secondo me ha una tinta leggermente sul verde forse l'occhio è portato a questa cosa legato al fatto del insomma c'è c'è questo primo piano con uscito la modalità c'è c'è questo primo piano con della vegetazione verde poi anche qua nella transizione dell'acqua è abbastanza verde però secondo me anche proviamo a farlo da qua direttamente senza fare grandi modifiche ma se io vado a giocare con la tinta e mi provo a spostare ok devo imparare a usare la penna e provo a spostarmi un po sul magenta vedete che secondo me diamo più l'idea del del tramonto che che avevamo caldo ora non so si può fare un prima o dopo non credo però secondo me è abbastanza evidente la differenza tra così spero che si anche in streaming è così un po più caldo vedete anche il il cielo comincia a diventare sempre un po più caldo anche in queste zone e si va a perdere quella che era questa diciamo tinta magenta su queste rocce su questo primo piano che secondo me dava un po fastidio che dite voi sì sicuramente a una piccola dominante di verde ma io volevo solo dire una cosa a parte della chiusura della post produzione probabilmente ci sarebbe da fare un controllo generico su quello che deve essere la pulizia del sensore bravo bravissimo guarda non l'ho non l'ho evidenziato prova zoomare adesso tu ci metterai quattro giorni a caricare lo zoom vale spero che si veda cioè attenzione pulire il sensore ragazzi perché qua c'è 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 pieno di impurità e direi che non sono gocce d'acqua ma proprio il sensore quindi un giro in revisione lo farei fare perché proprio ovunque se no poi te ne devi togliere a mano ogni scatto e certamente una rottura di scatole quella è sicuramente una rottura di scatole quella della della pulizia del sensore ma conviene farlo ogni tanto e poi correggere in post il più possibile io riguardo la composizione è un pelino statica secondo me anche se comunque la diagonale è interessante io probabilmente avrei cercato di magari fare un passo in avanti senza caderti sotto e magari aver abbassato un pochino la la fotocamera in modo tale da portare da ridurre insomma le rocce in primo piano e portare la diagonale più sulla diagonale e sfruttare quel cespuglio in primo piano centrale cioè tu dici abbassarsi di altetto proprio abbassarsi fisicamente in quel modo ridurre riduce il medio piano lì e la diagonale si sposta più vicino all'angolo e la rende un po più dinamica e poi quel cespuglio in primo piano l'avrei messo proprio come dire spaccato al centro della della composizione invece che leggermente decentrato che insomma non è né carne né pesce così su sulle compo centrali mi piacere più vederlo al centro quell'orizzontale il terzo riesce a sfruttarlo meglio qua quando è verticale insomma i spazi sono pochi e quindi chiaro avrei fatto quei movimenti poi vabbè a parte quello avete detto voi polarizzatore assolutamente top e la leggera bruciatura secondo me dà fastidio fino a un certo punto perché comunque il sole c'è l'occhio abituato a vedere a sapere che il sole incontro luce comunque brucia ecco qui l'importante è stato non aver bruciato di più ad esempio il riflesso tutte le nuvole sulla sinistra alla fine ecco se si brucia proprio il punto in cui c'è il sole per me non è un grosso un grosso errore anzi sarebbe stato controintuitivo vedere proprio la palla del sole perfetta in una situazione di luce così si ha senso magari ha senso vedere la palla quando è proprio sull'orizzonte bravo quando tocca o tocca magari un oggetto qualcosa lì in mezzo c'è uno squarcio l'importante è non bruciare quello che c'è intorno però insomma l'area di sole ci sta concordo quindi in conclusione direi ottimo scatto davvero bravissimo bravo 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 speriamo che ti sia tornato utile anche qualche nostro commento e allora io pesco foto a caso ragazzi quindi vado a pescare una foto giusto cerchiamone una non marina perché è finta non marina poi sono tutte abbastanza di parte no non è vero questa foto islandese ragazzi ho già bruciato la domanda che volevo fare vediamo se indovinate di dov'è ma chiaramente ormai l'ho detto quindi ales calas se la vedo allora no non la vedo ancora ma immagino quale sia perché ce n'è una solo se non allora commento prima io di lui così intanto che arriva la foto noi siamo andati a far la doccia beh ovviamente frank ci sono sto mettendo la in edit così facciugo volevo fare un appello prima anche per la questione del dello streaming di instagram se c'è qualcuno della generazione z che vuole aiutarci perché qua i boomer prendono sovravvento e non riusciamo a usare queste cose tecnologiche quindi magari qualcuno della gen z non funziona vedi l'appunto ma non era una supposta ecco perché non funziona non so se ne hai già provate di questa estensione no non lo era bene torniamo seri più o meno allora questa foto se non sbaglio è al tramonto ecco al tramonto perché il sole lo vedo a sinistra quindi di solito ci si va anche all'alba però devo dire super cioè non portando a nord con est e ovest libero direi che per il tempo di scatto inteso come periodo della giornata perfetto e nuvole stratosferiche ora ora d'oro secondo me a parte lo streaming che magari mi dà un leggero tendente al giallino però è un giallo dorato quindi da quel punto di vista mi piace molto anche i toni sembra quasi una bicromatica un monocromatico a parte il giallo e il nero c'è giusto appunto l'azzurro del cielo che matcha benissimo con il giallo oro quindi anche in termini di palette colori mi piace molto con posizione centrale della montagna e presa nella sua interezza perché non tutti la prendono tutta l'unica oddio che non è un difetto diciamo la butto lì magari anche per i vostri commenti questo primo piano molto vuoto pur con le sue diciamo toni di chiaro scuro non so se magari vale la pena trovare una di queste dune da lasciare un pochino più in primo piano tu frank che hai quello proprio vero di foto cos'è in primo piano lì in basso un po di luce non vedo ora ti dico il giallino che vedi non è il giallino dello streaming ma è proprio un punto di temperatura che è stato scelto nella foto qua davanti adesso non riesco a zoomarla non rimane zoomata ma se tu riferisci a quest'area allora c'è della luce che arriva sicuramente dal lato sinistro insomma tutta questa luce e sembrerebbe che appunto ci sono queste dune ci sono vedi queste patch un po più scure sembrerebbe della sabbia più bagnata o comunque particolarmente in ombra sì devo dire mi piace molto anche più minimal senza un primo piano troppo importante perché comunque non blocca la vista e ti manda a guardare insomma all'orizzonte avrei voluto vederla magari anche con un'esposizione un pochino più lunga per come siamo insomma noi abituati anche se così già è molto bella però con queste nuvole mi immagino che correvano perché insomma in islanda corrono un 20 30 secondi 40 avrebbe dato magari quel piccolo movimento che avrebbe fatto una foto un po diversa e ovviamente non per forza meglio ma magari dopo di questa una scattata una pochino più lunga se l'ha fatto può mandarcela e magari per il prossimo giro facciamo una comparazione e niente per me il commento è questo un ottimo scatto non avrei insomma avrei fatto solo diversamente per mio gusto personale un'esposizione lunga magari cercato anche un altro primo piano anche se questo è molto delicato è molto bello ottimo grande ade grazie alle scala vai tu così allora vi dico subito che è stata scattata con l'ausilio di ventanti scusa intanto di chi riccardo caprasecca ciao riccardo se ci sei batti un colpo anche tu stata scattata con il v7 è un genere di medium da tre stop ok ma a me piace nelle tinte insomma l'unica se proprio devo trovare un difetto e come ha detto aria il primo piano mi distrae molto la questa sabbia un po calpestata un po un po bagnata per il resto non ho granché da dire insomma sì certo se avesse fatto una lunga esposizione probabilmente l'effetto sarebbe stato diverso perché ci piace così però è un buon scatto secondo me chiudo anch'io con un rapido commento perché secondo me lo scatto davvero ottimo quindi riccardo detto l'autore quindi bravissimo riccardo e nitidezza adesso voi la vedete probabilmente in streaming non sembra molto ma veramente dettagliata la scelta di un gnd senza n di quella che ha determinato appunto un'esposizione più corta su questo sono d'accordo con ale io c'è riccardo ecco riccardo ciao riccardo dice cosa dice era la prima volta l'emozione era tanta era prima volta è sempre un casino ma comunque no riccardo fantastico scatto io conosco noi conosciamo bene questa zona e non è semplice trovare una composizione ma quindi il motivo per cui l'esposizione era breve per quello allora sull'esposizione anch'io avrei allungato un pochino non troppo ma quei 30 secondi che diceva ale secondo me ti davano quella strisciata perfetta anch'io ti dico onestamente il primo piano non mi convince tantissimo tu hai probabilmente ti sei incastrato in questi giochi di luce con queste chiazze davanti che sono belli però secondo me è come un distacco troppo netto da quello che c'è sopra e quindi io come invito ti proverai a suggerire però fare un crop pano da 16 noni vedere come viene poi ci tornerai a farla sicuramente ma brava a cropparla per tenerti solo il pezzo sopra un bel uno striscione secondo me fanno molto complemento il il medio piano quindi questa roba qua quindi questi ciuffetti con con lo sfondo fatto sta che in ogni caso ripeto qua stiamo parlando della virgola nel senso la ricordate il consiglio perché abbiamo preso questa foto tra le tante perché questo comunque è uno scatto fatto con un grand'angolo o con un circa e la il commento che vorrei farvi è quando usate un grand'angolo ricordatevi che è difficile da riempire sempre nel senso che la vostra visione ottica da essere umani non è a 24 millimetri tantomeno a 18 che a 16 no quindi quello che avete davanti in primo piano con un grand'angolo sembrerà più grande e quello che avete lontano sembrerà più piccolo quindi ricordatevi che con un grand'angolo bisogna sforzarsi a trovare dei primi piani interessanti più interessanti possibili comunque perché perché peseranno di più nella composizione insomma questo è il il mio commento quindi bravissimo riccardo e nulla da dire è stata la prima volta sicuramente non sarà l'ultima spero ok e allora vediamo cosa peschiamo pescherei dal mazzo vada a caso io butto il dito dove dove va andrei su questa foto andiamo andiamo in casa un po di estero un po di italia e vabbè qui siamo in una location direi abbastanza famosa ecco riccardo scusate per la prima foto dice con un 14 millimetri è un riccardo 14 millimetri appunto primo piano è tanta roba da riempire comunque passiamo a questa foto alle scalas la vedi già ci riesci a dire qualcosa no 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 stane vanno ma vabbè allora ti aiuto io è una foto di poter vedere la mia connessione sta andando magicamente stasera boh sì forse non ti sento l'audio hai l'audio staccato vale ho detto che si vede benissimo c'è un po pixelata ma da me arriva subito quindi magari è solo una questione di ospite che viene ritardato o ritardo dell'ospite non lo so non ha pagato non ha pagato l'abbonamento quindi esatto comunque sì qua siamo in liguria e porto venere andrea russo ciao andrea andrea se ci sei fatti sentire e dai lasciamo quest'ordine qua così mi preparo io per primo e beh chi dire sicuramente questo effetto di particolare soprattutto l'angolo tu frank che ce l'hai allora c'è un movimento a destra penso dovuto al vento di qualcosa mentre invece rimane quel pezzo di muro barra maceria o questo sia roccia sulla parte in basso a destra esatto che ha fuoco ecco a me questo dà un po' fastidio e perché c'è il movimento che dà quasi l'idea dello sfocato della pianta dietro però poi quello davanti è nitido quindi dà un effetto un pochino strano quasi di miniatura su tutta la foto e sicuramente non lo so impatta un po cioè mi cattura l'occhio non riesco a vedere il resto che invece è bellissimo quindi magari andando anche con omega crop per tenere solo la pianta why not per il resto appunto abbiamo il mare molto molto bello nel senso come toni di colore questo azzurrino verde acqua molto bello e il cielo nonostante non abbia particolari caratteristiche di nuvolosità che di solito cerchiamo su queste foto ha comunque dei bei colori pastello che ben si abbinano quindi sicuramente tono colore ci sta non mi convince solo appunto il l'angolo che mi distrae ai dati alessandro qualcosa no purtroppo no ci sono non abbiamo nemmeno un filtro ok ok bene no vi lascio a voi il commento provo andare avanti io allora concordo con quello che dici più o meno su cioè su tutto adesso l'avevo in me ringrazio molto molto obbligato eh allora intanto partendo dalla dall'impatto visivo a me piacciono molti colori di questa foto sono molto ben bilanciati secondo me eh la luce è ben gestita non ci sono eh glow adminchiam in post produzione piuttosto che rocce che dovevano essere ombre sono in gucce insomma mi sembra molto ben fatto in particolare sulla luce mi piace molto questa sezione ecco adesso non riesco a farlo funzionare perché sono con la gomma questa sezione perché ti fa proprio vedere come la luce arriva e c'è una parte in ombra secondo me eh crea molta tridimensionalità un dettaglio del genere mi piace tantissimo cosa che poi viene ripetuta sul resto del della del san pietro della chiesa e di tutto il resto eh con allora il cielo effettivamente non era il tramonto della vita in termini di nuvolosità però sei stato bravissimo secondo me in in termini di di gestione del del glow che c'era nel cielo cioè sono transizioni ben fatte anche nell'area che è più luminosa comunque non hai bruciato quindi sei stato certamente eh attento a questo dettaglio lasciando poi un bellissimo riflesso nel mare probabilmente utilizzando qua un pola o qualcosa per per renderlo più scuro e andando anch'io al consiglio che ti do adesso provo a tirare via tutte le schifezze che ho disegnato però sostanzialmente sono d'accordo cioè la la foto è qua che 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 volevamo arrivare nel senso che sicuramente un bello scatto gestito tecnicamente nitidezza filtri e quant'altro bene qua è usato certamente un nd probabilmente non so se un gnd onestamente per il cielo però eh questa parte destra pesa tantissimo secondo me è stata azzeccatissima l'idea del mettere questa componente in movimento delle piante io la l'adoro tantissimo lo sa chiamiamo l'insalata in primo piano io la metto sempre avere qualcosa che si muove in primo piano che in contrasto con il resto della scena secondo me dà molta dinamicità all'immagine però eh è innegabile che c'è questo blocco di di granito cemento io adesso come come molti di voi conosco benissimo questo spot e e questa è la struttura che c'è lì da parte che se non sbaglio era il tettino dove una molto furbescamente c'era salita sopra e franato anche giù tutto ma sostanzialmente lo vedi che è molto pesante nell'immagine cioè è più grosso questo triangolo che che quasi la chiesa di san pietro tanto più che è molto luminoso mentre il soggetto quasi principale è più in ombra quindi l'occhio è più portato andare a vedere questo dettaglio qua così come il fatto che ha una forma geometrica triangolare sta in un angolo cioè ci finisce l'occhio fine quindi bello scatto attenzione solo quando sei in campo che magari spostandosi un pelino a sinistra non cambia una mazza magari invece cambia tanto perché riesce a tirarti via questo triangolone riesci a aprire qua adesso ritorno che rifaccio riesci questo dettaglio qua vedi che c'è il promontorio che si sovrappone a questa roccia e magari ripeto spostandosi un po' più sinistra riesce a dare più respiro riesce a lasciar passare l'acqua e riesce quindi a dare una tridimensionalità maggiore allo scatto quindi ancora una volta bellissimo scatto attenzione alla composizione che come vedete potete avere tutta la situazione più figa del mondo ma poi magari in fase di scatto ci vuole veramente la ricerca del dettaglio per per portare a casa veramente un'immagine magnifica adescaros che dici tu sono concordo appieno con il fatto che le immagini sono immagini abbastanza ben gestita sotto l'aspetto della post produzione la composizione si a questo angolo in basso a destra probabilmente da ripetere io forse ho notato ma non so se è il mio monitor a sinistra dove indicavi il fascio di luce sulla roccia sulla roccia tridimensionale in alto non so se sono sono io che lo vedo un po più scuro se è un problema da un filtro è semplicemente in ombra onestamente perché in ombra nel senso non vedo una adesso magari poi alle correggimento che c'è un pezzo qua più scuro e qua meno scuro in ogni caso in ogni caso è un bel c'è il motivo magari non lo sappiamo però avrei magari fatto una piccola maschera selettiva per riequilibrarlo leggermente occhio di falco alessandro bravo della presa però per il resto ottima ok dai allora questa la chiudiamo qua ancora complimenti all'autore mi sa che non è tra noi stasera quindi non può battere un colpo e eppure registrata la potrà vedere esatto allora ne peschiamo un'altra ne peschiamo un'altra peschiamo andiamo sempre a caso io vado di titone andiamo qua anche perché è un posto che conosciamo bam ah top top intanto aspettiamo scalas e dal futuro ti parliamo e vediamo se indovini allora questo è un posto veramente molto difficile da mio avviso da da comporre ci siamo andati diverse volte con frank e annuncio pubblicitario ci facciamo spesso anche dei workshop si trova nel sud del portogallo in algarve e questa questa spiaggia innanzitutto sono delle spiagge delle delle coste rocciose veramente in perenne movimento perché comunque sono rocce molto friabili che insomma si si sfaldano franano e bisogna stare molto attenti ma allo stesso tempo c'è quella sensazione di fotografare qualcosa di vivo che poi l'anno dopo magari non c'è più o sarà diverso questo doppio arco ha due punti fotografici per per scattare questo è il più affascinante secondo me è più difficile da da comporre innanzitutto siamo vicinissimi a un doppio arco maestoso probabilmente la foto è fatta 16 18 mm non so se alec hai già il nome del fortunato assolutamente sì enrico maggio ma non abbiamo dati di scatto ok enrico 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 e se ci sei appunto ci fa piacere se commenti o anche poi se lo vedrai eh registrato eh qua io parlerei di composizione perché qua è veramente difficile allora due cose voglio voglio puntare e poi lascio a voi la parola così magari date altri spunti il fatto che a sinistra ci sono molte rocce ci sono veramente cioè quel muro un pochino un po' presente mentre invece a destra giustamente per far vedere l'arco è stato deciso insomma la enrico ha lasciato aperto il l'acqua quindi la cornice in qualche modo immaginaria esatto si si interrompe da qua uno direbbe giustamente perché se l'avessi chiusa avrebbe perso il secondo arco però conoscendo il posto e avendoci scadato tante volte cercando bene eh probabilmente da qui spostandosi un pochino più a destra non voglio dire una questioneria si riesce a mantenere un pelino un filino di primo piano quindi un pochino più di acqua e limitare insomma l'impatto della roccia di sinistra pur avendo una una buona chiusura e anche sulla destra nonostante controintuitivo perché c'è da spostarsi un po' e chiudere leggermente l'arco però poi il risultato secondo me eh è migliore però ripeto è è veramente difficile comporre qua l'altra cosa da qui non so se è stato stato un polarizzatore in ogni caso da magari da controllare come è stato polarizzato perché vedo il riflesso del mare verso l'orizzonte abbastanza eh argente o un po' un po' troppo fastidioso no interessantissimo perché sul scusate sul sulla composizione sono d'accordissimo con te insomma questo è certamente uno dei degli spot più figli questa è Praia da Marigna o Marina non so come si dice è veramente bellissimo sia all'alba anche a tramonto in realtà e all'alba ci sono più punti di ripresa allora secondo me la l'idea compositiva che è stata la base del tutto è stato questo angolo qua omestamente perché come vedete eh la scelta proprio del punto di ingresso è sulla diagonale di dove parte l'arco ehm che secondo me ehm è un'ottima scelta nel senso che lo sappiamo le diagonali funzionano molto bene per portare dentro l'occhio perché sono linee guida che ci permettono di di poi di esplorare l'immagine in questo caso appunto noi qua andiamo a esplorare un doppio arco assolutamente bellissimo eh sono d'accordo con Ale che la parte sinistra forse è leggermente sbilanciata nel senso che sicuramente la parte del mare chiude per chiude bene qui c'è la scelta di lasciare aperto ma è aperto di un po' quindi ci può stare però secondo me la parte sinistra pesa tantissimo cioè io proverei in qualche modo a fermarmi qua nel senso questa parte è in qualche modo meno interessante ma non perché è ripresa male o quant'altro ma perché pesa tantissimo rispetto poi al resto della scena quindi sono d'accordo con Ale secondo me è un passettino quello che potrebbe essere stato a destra conoscendo la zona ti avrebbe permesso di forse di rifinire meglio la composizione però io voglio sottolineare anche un'incredibile difficoltà di questo spot che è data al fatto che questa è una foto scattata all'alba e all'alba lì è buio pesto e lì veramente bastano 5 centimetri a destra o a sinistra per cambiare completamente l'immagine quindi mettere giù tutto, prepararsi, fare la foto e poi quando la luce sale dire oh sono nel posto sbagliato mi sposto cioè non è semplice neanche io neanche noi lo facciamo molto volentieri il consiglio pratico che vi do in questi casi ricordatevi sempre quando arrivate all'alba e volete fare la foto e conoscete bene il posto lo conoscete giusto ricordatevi che la vostra fotocamera vede meglio di voi alzate gli ISO a palla e cominciate a fare foto ad minchiam cioè i primi 10-15 minuti sprecateli nell'affinare la composizione ISO altissimi, scatti da frazione di secondo rumorose, fuori fuoco ma solo per capire dove scattate quindi non aspettate la luce per rifinire la composizione scattate al buio rovinando la foto ma per mettervi nella posizione di scatto giusta quando la luce ci sarà quindi questo era uno dei motivi per cui abbiamo scelto questa foto e comunque, ripeto, stiamo parlando di raffinatezze quindi veramente bello lo scatto il cielo non ti ha premiato la levataccia perché non era particolarmente nuvoloso sul lato post-produzione ti potrei dare le mie due indicazioni sono secondo me qui aspetta, scusami la fascia dell'orizzonte c'è quel leggermente giallino che potrebbe dare un po' fastidio ti suggerisco di provare magari banalmente su Lightroom di shiftare il canale dello U com'è che si chiama in italiano? la tinta non la tinta come si chiama in italiano? new saturation and tinta tinta, ok la tinta del giallo verso l'arancio secondo me viene un pochino più figo e poi secondo me c'è una piccola nota di di viola in generale nella foto anche qui secondo me giocando leggermente con la tinta del bilanciamento del bianco forse raggiungi un punto di equilibrio migliore però la fos-produzione ragazzi questo è la mia personalissima suggerimento e il bianco non esiste tutte le cose che vi racconto sempre ma sostanzialmente insomma io la farei così ma comunque bellissimo scatto ricordatevi veramente il consiglio quello dello scattare al buio con gli isoalti perché quando arriva la luce è già troppo tardi Ale Scalas che dici? a me piace la composizione sicuramente meglio della mia che ci ho fatto una settimana in Algarve e non ho potuto fare la foto quindi ma che tu eri lì ad alcoolizzarti con la scusa di andare a fare la foto esatto però sì forse l'unica notta sarebbe è questa roccia sulla sinistra poi per il resto la post-produzione la vedo molto soggettiva quindi non non ho niente da dire ok quindi ancora complimenti Enrico l'autore giusto? esatto bravo Enrico se mi sa che non è tra noi se poi rivedi nel futuro questa immagine puoi certamente commentare e noi saremo felicissimi di di aggiungere qualche considerazione allora prendiamo un'altra e prendiamo questa di cui viai assolutamente se vuoi vado a commentarla io dall'inizio vai perché mi sento di rubare parola alla gente oggi respirato vai sì esatto e allora qua siamo decisamente sotto un pontile direi non riuscirei a capire dove non conosco il posto non so se in Italia o no se qualcuno lo conosce magari può scriverci tra i commenti oppure appena c'è l'Ale Liguriale ah in Liguria non è nemmeno non è tanto lontano sicuramente è un posto molto antropizzato immagino visto anche dalle persone sopra antropizzato signorino parla francese vabbè c'è molta gente e dei cacaca e vabbè da ammirare sicuramente la insomma il fatto di aver cercato appunto le rocce in primo piano c'è una scelta a mio avviso di composizione non penso fortuita quindi il pontile che entra dall'angolo dalla diagonale in alto a sinistra e va verso il centro seguendo appunto la diagonale il cielo posizionato sul terzo si vede che insomma ha letto l'occhio del fotografo di Freeman è andato lì e col compassino ha fatto il compito ma l'ha fatto bene cioè non in maniera troppo accademica anche perché comunque quando ci sono delle linee così ben definite appunto antropizzate quindi non naturali è giusto mantenere nel mantenersi insomma all'interno di delle regole ben definite senza andare troppo a inventarsi cose allora qualcuno dice che non si vede l'immagine voi la vedete io no io non sto parlando a caso qualcosa vedo ok provo a toglierla a rimetterla perché io la vedo Ale la vede ma vedo dalla chat che qualcuno dice che non la vede ora vediamo se si vede mi approfitto per dire che la foto di Andrea Parola che ci scrive anche in chat ci specifica che sono pescatori ah è sempre cacacazzi comunque allora intanto allora qua mi dicono sempre che dice che sembrerebbe ci vuole molto tempo a caricare quindi Scalas non è l'unico però Andrea dice che Andrea se la ricorda quindi quindi io continuo voi immaginatevi 4-5 rocce in primo piano un pontile che entra dall'angolo in alto a sinistra con dei piloni rossi dei pescatori sul pontile arriva arriva Ale è arrivato a posto quindi quello che ho detto prima l'ho ridetto adesso immaginate e l'unica cosa che forse avrei fatto e provato magari il solito 1-2 passi magari anche se è interessante questo gioco d'acqua che adesso senza la barra sotto che Frank ha tolto sembra un po' tipo una stella una stella no? quell'acqua tipo Patrick Stella di Spongebob ce lo vedo lì appiccicato sopra disegnalo Frank dai guarda lo stavo facendo rosa esatto così però magari anche due passi in avanti proprio per essere un pochino più minimal e sfruttare ancora di più il perfetto l'effetto appunto minimale e poi ovviamente ma lo lascio dire a Frank sui tempi di esposizione io avrei fatto una bordata di secondi in più per renderlo più insomma più setosa l'acqua forse allora sul tempo di scatto parto anch'io su quello effettivamente secondo me qua sei nel momento sei nell'intermezzo quello che io personalmente anche Ale forse evitiamo ma per gusto personale non perché è sbagliato cioè o fai la lunga o fai la la corta questo è quel qualche secondo che rende mosso però non è né lunga esposizione né c'è il dettaglio assoluto quindi sì qua forse ti conveniva se avevi la possibilità di allungare il tempo provare magari allungare un pochino più il tempo di scatto però molto soggettivo io volevo fare sicuramente un complimentissimo ad Andrea perché ecco non si vede forse dalla dalla qualità o comunque dalla risoluzione dell'immagine però la composizione è veramente ricercata perché non so se l'hai visto Ale ma qua al centro c'è proprio il sole che sta tramontando ed è perfettamente in mezzo ai piloni quindi non è certamente un caso proprio ben messo e e l'occhio certamente ci va perché il pilone ci aiuta a portare la cosa vero a livello compositivo forse sì io qua non so se tu pensavi a fare un mezzo passo avanti o un mezzo passo indietro a me verrebbe distinto dire faccio proprio fare un passo indietro perché ad esempio qua qua e qua l'immagine sembra leggermente tagliata come se c'è un pezzettino che manca e mi verrebbe di andare indietro è chiaro che stiamo parlando del niente perché non essendo lì non possiamo sapere qual è la situazione normalmente comunque la regola che mi do io quando sono in campo in una situazione del genere che finché nel senso stai in studio che puoi mettere giù le cose è chiaro che uno la mette come vuole Andrea può dirmi sì Frank ma io quando stavo lì e non è che potevo spostarmi i sassi o se andavo indietro prendevo dentro delle schifette in quel caso lì comunque secondo me tra l'andare indietro e prendere delle robe che non c'entrano piuttosto che lasciare così avrei fatto allora un passo avanti avrei forse quindi rinondato un pochino alla alla composizione perché mi sarei perso probabilmente un pezzettino di qua probabilmente un pezzettino cioè avrei fatto una cosa un po' più chiusa su se stessa però mi sarei tolto dall'imbarazzo chiamiamolo così dell'avere delle piccole porzioncine tagliate quindi il mio commento finale è un bellissimo scatto compositivamente l'hai ricercato proprio mi piace che sei andato lì perché probabilmente che ne so con fotopins o quello che hai visto dove scendeva il sole la presenza umana dà una dimensione al tutto quindi non sono fortemente contrario secondo me quel mezzo passettino avanti ti avrebbe permesso di tirare via queste distrazioni che che poi l'occhio ci cade dentro e avresti lasciato più diciamo questo questo specchio d'acqua qua davanti magari con un tempo di scatto più lungo l'avrebbe resa ancora per il mio gusto più più coinvolgente però stiamo parlando del del nulla perché ecco qua attenzione c'è Andrea che ci fa un commento se andavo indietro rimanevano troppi sassi in primo piano se andavo avanti tagliavo quel movimento dell'acqua che mi piaceva perfetto quindi questa l'importante penso che sia sempre che ci debba essere sempre una scelta ragionata non un caso l'ho fatta perché ero lì esatto se hai un motivo va più che bene perché appunto noi possiamo solo commentare senza sapere soprattutto se invece dici non ho trovato avrei potuto fare ok se invece l'hai fatto e hai fatto una scelta e hai fatto il fotografo in quella situazione quindi magari quello che dice Frank potrebbe accadere cioè quindi dare un pochino più di respiro anche usando qualche millimetro in meno non credo fossi a 12 millimetri quindi magari se è scattato non so a 20 magari provare a 18 la prossima volta se hai l'obiettivo giusto per dare quel pochino di respiro un pochino più al lato però ripeto è sicuramente una scelta ragionata si vede poi non so voglio aggiungere un commento visto che a te Frank dà sempre fastidio diciamo comunque ci guardi sempre il colore il tono delle rocce perché qui se fai caso quelli due lì davanti sono molto più scure rispetto alle altre io forse un pochino l'avrei schiarite allora qua è interessante il commento perché effettivamente quando hai un blocco di rocce più o meno distanziato uguale l'occhio cerca di vederle più o meno la stessa colore luminosità ed effettivamente qui forse ti riferisci in particolare a quelle in basso a sinistra queste che sono molto diverse da queste ti dico in realtà non mi pesava tantissimo all'occhio forse proverei ad abbassare un pochino le ombre su queste qua in primo piano forse per riequilibrarle intendevi una cosa del genere sì esatto una cosa del genere però ripeto è un più un mio un fetichio sì 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 però dai concordo nel senso anch'io questo come dici giustamente è una cosa che cerco sempre ecco se è vicino casa Andrea ti consiglio di tornare magari quando c'è il mare leggermente più mosso che magari fa un pochino di schiuma un qualche movimento in più che può essere carino sì anche perché guarda se guardi i piloni c'è c'è una linea di di marea qua sotto che secondo me qua prendono in Liguria no però per dire c'è mareggiata ma onda lunga così secondo me l'acqua mossa quella è la moffa Frank è la moffa opposto allora ci mettiamo a stagionare i salanti va buona Ale tu alle scale sai qualcosa o no mi piace un bel po' perché anch'io prima avevo la malattia di fotografare i puntini forse avrei fatto una composizione diversa ma naturalmente è sempre soggettivo forse avrei passeggiato un po' di più se la spiaggia lo permetteva ma ho letto il commento di Andrea e pare che non fosse possibile probabilmente avrei fatto qualche passo in più a destra e avrei dato più respiro insomma la composizione più aria sono questo ci sta comunque da Andrea noi questo posto non lo conosciamo quindi da ora abbiamo una bellissima scusa per venirti a scroccare un po' di cibo e vino quindi why not why not mi verrebbe da dire ok proseguiamo ragazzi il tempo vola ci stiamo divertendo alla grande abbiamo un casino di foto magari ne scegliamo ancora qualcuna perché purtroppo non abbiamo il tempo per tutte sceglierei questa per diversi motivi allora questa foto la vedete ditemi intanto se la vedete perché visto che ci mette 8 giorni tu la vedi io si la vedi incredibile allora introducela tu guarda ti lascio questa vai è troppo bella per la serie vai introdurco io vai tua tutta tua autore lorenzo del pace meravigliosa scattata alle isole Lofoten qui lorenzo ha scattato con un easy v6 un cpl landscape un gnd medium 3 stop e un nd 64 fantastico io adoro questa foto l'ho vista qualche giorno fa mi piace prima di tutto la composizione con questa roccia in primo piano con la neve che porta lo sguardo verso le montagne sull'orizzonte adoro il colore del mare ma poi questi toni freddi secondo me sono sempre spettacolari penso di non poter trovare un difetto in questa foto allora intanto guarda concordo se non ho capito scusa il gnd da 3 stop c'è anche la transizione medium un medium perdonami un medium no no non l'avevo sentito anch'io giusto per segnarcela qua perché è figo anche commentarlo allora intanto saluto Lorenzo perché allora questa foto se non sbaglio è stata scattata intanto che eravamo alle Lofoten insieme io credo che ogni giorno io e Lorenzo e Ale eravamo alla stessa spiaggia o allo stesso spot però non riuscivamo mai a vederci o a incontrarci quindi abbiamo fatto una settimana insieme da soli insieme sostanzialmente quindi ciao Lorenzo sarà per la prossima volta ci ribecchiamo ancora le 5 in Liguria allora a me piace tantissimo sia per lo spot che per insomma per il tutto il resto allora qua è una delle location sicuramente più suggestive che che Lorenzo credo abbia catturato credo che tolgo le scritte così non fa noia che credo che Lorenzo abbia catturato in un momento davvero interessante allora per chi non è familiarissimo delle dell'isola Lofoten insomma quando ci sono queste tempeste che arrivano insomma c'è poco tempo tra quando arriva la tempesta e quando devi correre in macchina quindi ogni ogni foto è una sfida e qua mi piace tantissimo perché soprattutto se conosci il posto capisci che c'è questa tempesta che sta entrando da destra e sta facendo nero tutto che pian piano insomma si avvicina un primo piano meraviglioso punto di bianco fantastico che tra l'altro allora Lorenzo ha enfatizzato questa foto utilizzando il polarizzatore Landscape se non ho capito male sull'ISI V6 mi dice guarda con un V7 con un true color guarda sarei stato ancora più curioso di vedere il risultato però qua lo vedete guarda il colore dell'acqua è meraviglioso colore dell'acqua meraviglioso punto di bianco perfetto questa foto è davvero un un capolavoro guarda secondo me sempre per fare il feticcioso rompiscatole l'unica cosa l'unico dubbio che ti voglio instaurare nella testa è legato all'angolo sinistro allora non ci scarabocchio sopra perché purtroppo viene fuori un viene fuori un pallino non si capisce se no ma se vedi qua nell'angolo in basso a sinistra c'è questa bellissima diagonale che parte non proprio dall'angolino e visto che c'è vicino a quell'angolino dici ma perché non farla partire dall'angolino quindi uno verrebbe da dire faccio la croppata e la faccio partire dall'angolino il problema è che se io lo faccio proviamo a tirare su insieme una riga vedete cosa vado a fare vado a perdermi vabbè poi perderò anche una porzione del cielo sopra ma chi se ne frega ma vado a perdermi questa zona qua che adesso ve la faccio rivedere senza senza le marchettate sopra che come vedete qua in questa zona si vede la montagna che vi arriva contro la nuvola e fa l'effetto smoky della montagna quindi si andrebbe a perdere un po' di quell'effetto e quindi io sarei combattutissimo guarda sarei proprio curioso di sentire i due ale cosa ne pensano perché da un lato mi verrebbe da dire io qua farei un croppino per portare la foto che parte dall'angolo però vado a perdere là in alto quel senso di sfumatura che mi sta dando la montagna cioè secondo me ripeto stiamo parlando siamo alla fine stiamo parlando di una foto da 30 lode qua stiamo parlando veramente della lode voi cosa fareste in campo in una cosa del genere ale ale io sparo ale tanto vi chiamate tutti ale vai ale vai vai tu è difficile in campo a vederla in campo te lo dico io parto io perché ho tirato la palla cioè se fossi in campo e me ne accorgessi in tempo perché ripeto sta roba qua questa tempesta che voi vedete qua è una roba che arriva in tre scatti cioè se stai facendo uno scatto da due minuti più o meno come ha fatto l'ora adesso non so il tempo di scatto magari ce lo dice però in tre scatti tu hai quella tempesta addosso quindi se devi prendere una decisione devi farlo abbastanza veloce in fretta io lì se te ne accorgi avrei fatto mezzo passo a destra in modo da spostarmi tutto a destra e magari girare un po' la fotocamera in modo da inquadrare adesso sto estremizzando ma guardando più di lì che verso il mare che verso il dritto di cui sono se non te ne accorgi non fai in tempo perché sei in post-produzione onestamente non lo so proverei forse il croppino perché questo piccolo pezzettino qua sotto boh è lì è bello è una foto da 30 per la lode non lo so stiamo veramente parlando del nulla credo però insomma per darvi ragazzi quello che ci viene in mente quando vediamo foto del genere tempo di scatto ci sta dicendo che è di 40 secondi quindi molto più breve di quanto pensassi vuol dire che sta roba stava correndo a mostro guardate come si muove veloce guardate che sfumature fa con solo 40 secondi qua due minuti veniva un piattone quindi boh ce la lasciamo nel dubbio ragazzi io non avrei un commento risolutivo per questa secondo me è una foto veramente eccellente sì anche perché dà fastidio solo a te a me va benissimo ok quindi l'unico commento che facciamo è Lorenzo stampala perché è veramente strafitto no allora io conoscendo il posto comunque Vareid è così non è il mio posto preferito lo sa Frank lui piace il botto a me non è il mio posto per evitare lo fotem perché sono tanti sassoni e allora la mia comfort zona Vareid è praticamente buttarmi in acqua cioè andare più avanti possibile in modo tale da non avere la confusione diciamo tra virgolette di tanti sassi in primo piano e puntarla sul minimal perché oggettivamente lo sfondo è tra i più belli delle Lufoten e punta dritto a dove deve puntare e nel periodo in cui c'è stato che praticamente era due settimane fa insieme a noi puoi beccare la luce quelle sei ore che c'è luce la puoi beccare sempre però io preferisco proprio andare andare davanti quindi per me è il primo piano qua che è un po' confusionario poi ottimo che c'è la neve che fa questa diciamo freccia che punta diciamo in avanti questo triangolo e quindi bene mi sembra anche centrata più o meno quindi l'avrei centrata più possibile sicuramente e va benissimo se no sarei andato proprio avanti lì dove vedete quelle rocce un po' in mezzo l'acqua sarei andato giù ci sta comunque ripeto scatto eccellente sì non avrei niente da dire quindi se non bravissimo Lorenzo e non lo so io direi che con questo scatto guarda siamo arrivati alle 10 e direi che con questo ci possiamo anche fermare ragazzi non so se ci sono altri commenti da parte vostra o dubbi domande curiosità è stato un puntato dove abbiamo parlato molto più noi che voi però certamente se ci sono commenti siamo più che felici di sentirli se non ce ne sono direi che adesso lasciamo quei 30 secondi per vedere se qualcuno scrive qualcosa direi che ci possiamo fermare qua è un peccato perché questa è una puntata che sarebbe potuta andare avanti due o tre ore perché sono arrivate tantissime foto e ne abbiamo ancora tante altre magari le teniamo già buone per una delle future puntate tanto avete capito che questo ciclo di puntate sulla composizione comunque sulla review fotografica ci piace farle se non sbaglio tra l'altro adesso io non voglio dire una cacchiata ma penso che la prossima volta il prossimo episodio è sulle nostre di foto può essere non mi ricordo più il nostro parincesto che è una cosa bruttissima può essere come può non essere perché non me lo ricordo nemmeno io benissimo comunque un'idea che avevamo visto che spesso sembra sembra troppo da cattivi dire vabbè pigliamo le vostre foto e facciamo i saccenti sulle vostre foto allora ci siamo detti ma perché non proviamo a commentare le nostre di foto quindi cerchiamo di commentare scelte ragionate ed errori palesi sulle nostre foto sembra per cercare di darvi cercare di darvi qualcosa qualcosa per provare vabbè ragazzi io non vedo grandi altri commenti o domande c'è un commento di Alfredo guarda su questa foto lo proiettiamo perché mi sembra molto intrigante quella montagna sullo sfondo a sinistra che si vede dalla spiaggia di Vareide è molto tridimensionale l'avrà inserita più nell'inquadratura lì è un casino Alfredo anche tu conosci il posto è chiaro Vareide è complicata nelle composizioni quindi sicuramente è un posto che io ci torno come dicevamo inquadrare un pochino più a sinistra ci stava andava un pochino più al centro il primo piano triangolare e sicuramente si dava un pochino più importanza alla montagna sono scelte che secondo me possono essere funzionali sicuramente qua va bene ragazzi a questo punto siamo arrivati abbiamo superato abbondantemente un pochino l'ora e secondo noi siamo siamo un po' arrivati alla fine e io direi di ringraziare il nostro ospite che sarà ricorrente sarà di cameo grazie a voi dell'invito grazie allora io nella chiusura vi ricordo solo venite sul sul gruppo di Denise Italia su Facebook perché è una ficata adesso qua abbiamo fatto questa grafica assolutamente inutile con il QR code ma era figo farla comunque community Denise Italia la trovate subito ragazzi trovate il menù del ristorante al QR code esatto potete fare donazioni a me ad Ale non ad Ale schiavizzato lì ma ragazzi allora grazie a tutti è stato fighissimo fare un'altra serata con voi ci vediamo al prossimo episodio del Light Club che non sappiamo di che parla perché ce lo siamo dimenticati ma sarà fighissimo un ciao dal Frank ciao ragazzi ciao ciao ragazzi ci aspetto ciao ciao belli